In un primo tempo eravamo dubbiosi sul fatto che il procuratore era stato consulente negli anni precedenti a Palazzo Chigi, però da quattro anni a questa parte, visto che il 21 novembre fra pochi giorni sono quattro anni che va avanti la questione di Banca Truria, con gli incontri fatti con lui ripetutamente, con come si è comportato con noi, noi a questo punto spieghiamo che possa rimanere, anche perché se arriva un giudice da Treviso, e questo riparte da capo un'altra volta, buonanotte, già siamo in ritardo, è passato quattro anni, quindi sotto questo profilo noi spieghiamo che rimanga il procuratore Rossi. Dopo il sostegno arrivato da parte del Pulte Magistrati e Aretini, la dura presa di posizione degli avvocati, adesso anche i risparmiatori azzerati della vecchia Banca Truria si schierano contro la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sulla mancata conferma di Roberto Rossi a procuratore Capo di Arezzo. Una delegazione dell'Associazione Vittime del Salvabanche, infatti questa mattina, ha salito le scale del Palazzo di Giustizia Aretino per incontrare il Presidente del Tribunale, Gianni Fruganti. Temiamo ulteriori rallentamenti, perché quando ci sono dei personaggi nuovi voglio rivedere tutta la questione. Su questo lo abbiamo detto anche, sottolineato anche a Dottor Fruganti stamattina, che ci ha ricevuto il Presidente del Tribunale, il quale domani presiderà la prima udienza per bancarotta semplice che riguarderà i propri finanziamenti fatti, quello di domani, per esempio quello della privilegie sul panfilo di Civitavecchia, 25 milioni senza garanzie. E lì abbiamo spiegato che siccome l'origine è quella, i colpevoli sono sempre all'origine, noi aspettiamo che la giustizia faccia finalmente qualche condanna vera, che abbia il suo decorso, anche perché passano gli anni, lei pensi che di 4.400 retini truffati, 2.600 siamo pensionati. Non è che potremo vivere 50 anni per aspettare le sentenze. Domani sarà ancora una volta il giorno dei testi della Procura, chiamati a deporre la curatrice del fallimento, privilegiata De Rosa, il suo collaboratore di Fani ed infine il maresciallo della Guardia di Finanza, Lucci.